Anche per me, ma forse l'erarchia privata di Reassi a Firenze, quindi con tre squadre forti, magari in questo momento anche la più forte, ci sono stimoli maggiori e quindi ci sono motivazioni probabilmente maggiori. L'altra, se ci dà una mano a capire, è stato oggi dai visti e quindi una mano ci ha dato a capire, non più di tanto, ma non volumariamente, l'Orper sta facendo di tutto continuamente, ma probabilmente è difficile, perché se non era quello bizzarro ancora non sta bene da valutare le prossime ore, ma domani, sono prima di giocare prima della partenza, se portarlo o meno, Basanta è un grossissimo puntetero, Tomovic no, Savic no, non ce lo rischiamo, Valdir sta bene, 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 ma non siamo scopertissimi, soprattutto per le alternanze durante la partita, o non possiamo cambiare qualcosa in altri isso, ma questo puntata se non fanno così.